L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Si è tenuta stamane, in modalità telematica, la riunione del coordinamento istituzionale del piano di zona ambito S2. A presiedere la seduta, il sindaco del comune capofila, ovvero Cava dei Tirreni, Vincenzo Selvalli. All'incontro hanno preso parte i sindaci di Tramonti e Praiano, Domenico Amatruda e Anna Maria Caso, e gli assessori alle politiche sociali dei comuni di Positano, Minori, Scala, Amalfi, Maiori e Vieti Sulmare, e il responsabile finanziario del comune di Conca dei Marini. Nello specifico, il coordinamento istituzionale ha approvato gli atti relativi alla presentazione, presso la regione Campania, della manifestazione di interesse per i progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Inoltre, nel corso della seduta, il coordinamento ha proceduto all'approvazione dei criteri di compartecipazione alla spesa Servizi Prima Infanzia, ambito S2, esenzioni, riduzioni e agevolazioni per l'anno educativo 2021-2022. Infine, è stata acquisita la disponibilità del comune di Maiori per l'allocazione della sede del centro servizi per la famiglia ed i minori.